La sindrome emolitico uremico atipica è una malattia rara che colpisce sia i bambini che gli adulti. Quanto è frequente nella popolazione pediatrica? Che impatto ha sulla qualità di vita di questi pazienti? E cosa c'è di nuovo nella terapia di questa patologia? Lo abbiamo chiesto al professor Enrico Vidal a Milano in occasione di un incontro incentrato proprio sulla sindrome emolitico uremica atipica. Professor Vidal, la sindrome emolitico uremica atipica è una patologia che può colpire anche i pazienti pediatrici. Quanto è frequente nei bambini? Sì, dunque, partiamo dalla considerazione che stiamo parlando di patologie rare. In generale la sindrome emolitico uremica atipica è una patologia nel suo complesso rara. Il bambino più spesso è affetto dalla cosiddetta forma tipica, ovvero quella forma il cui meccanismo esiologico è legato ad un'infezione di ceppi particolari di un germe che si chiama scherichia coli e che colpisce circa il 90% delle cause di sindrome emolitica. Le forme atipiche, quindi non dovute a questa causa infettiva, sono circa il 10%. È molto difficile avere dei dati solidi dal punto di vista epidemiologico. Possiamo basarci sui dati del registro globale della sindrome emolitica atipica che ci dicono che l'incidenza è di circa un caso ogni 500.000. Di questi più o meno la metà ha un esordio sotto i 18 anni e di questi che esordiscono sotto i 18 anni il 50% è un esordio sotto i due anni di vita, quindi in una fascia di età tipicamente pediatrica. E che impatto ha la malattia sulla qualità di vita di questi pazienti? L'impatto è significativo. Parliamo di una condizione grave, di una condizione che ha una manifestazione multisistemica e la cui evoluzione però è stata significativamente modificata dall'avvento e dall'utilizzo di farmaci bloccanti il sistema del complemento che in qualche modo vanno a direzionare in maniera chiara quello che è un meccanismo fisiopatologico che poi determina il danno. Il problema è che questo tipo di farmaci, specialmente nel bambino, richiedono una terapia sostanzialmente cronica e quindi richiedono moltiplici accessi negli ospedali per continuare il trattamento. Oggi per questi pazienti è a disposizione un farmaco che si chiama Ravulizumab. Ci spiega come agisce questo farmaco, di che farmaco si tratta? Sì, questo farmaco è un farmaco innovativo ed è un farmaco che cambierà la qualità di vita dei pazienti con sindrome oremico-emolitica. È in sostanza una evoluzione dell'eculizumab. Si caratterizza per dei cambiamenti in realtà di solo 4 aminoacidi in quella che è la proteina dell'eculizumab però in punti chiave che fanno sì che, a differenza dell'eculizumab, il farmaco abbia un miglior riciclo ovvero persista per più tempo nel circolo del paziente. Questo fa sì che l'emività del bloccante e del complemento passi da due settimane ha quasi da 14 giorni a 8 settimane. Quindi questo ne consente ovviamente un allungamento anche degli intervalli di somministrazione per cui possiamo appunto somministrarlo a cadenza di due mesi. E cosa sappiamo oggi sull'efficacia e la sicurezza di questo farmaco? Sappiamo, abbiamo già dei dati, dati che derivano da studi anche in ambito pediatrico che ci dicono che è un farmaco sicuro ed un farmaco efficace ed è particolarmente efficace anche nel bambino proprio per il meccanismo fisiopatologico che ha. Il bambino, diciamo, è particolarmente suscettibile a quelli che possono essere degli stress che in qualche modo innescono delle potenziali ricadute di sindrome oremico-emolitica. Qualsiasi evento infettivo può, in soggettica a una presposizione genetica, rappresentare l'elemento scatenante di una ricaduta. E ovviamente il bambino è particolarmente suscettibile e vulnerabile agli episodi infettivi. Per cui avere un farmaco che in qualche modo blocca in maniera più sostenuta, più consistente il sistema del complemento, beh, ne può migliorare anche l'efficacia e di conseguenza anche la sicurezza. E quindi qual è il messaggio che possiamo dare a questi pazienti e anche alle loro famiglie? Beh, il messaggio è un messaggio direi rassicurante, nel senso che il messaggio fondamentale è che la prognosi di questa condizione negli anni si è drasticamente modificata, ma ora si tratta di modificare globalmente la qualità di vita di questi pazienti. Quindi non solo di curare la malattia, ma di migliorarne la qualità di vita sotto molti versanti. E la possibilità di ridurre gli accessi dei bambini in ospedale, la possibilità di evitare a molti genitori, insomma, di perdere giorni lavorativi per portare troppe volte i bambini in ospedale, la possibilità di ridurre il numero di prelievi di accessi venosi in questi bambini va verso un significativo miglioramento della qualità di vita.